Sono tantissime le richieste per un video sull'ibernazione delle formiche e su come andrebbe fatta in cattività, al punto che ho deciso di anticipare la pubblicazione di questo video. Beh, direi di iniziare dal principio e dal perché le formiche, come molti altri organismi, eseguono questo processo metabolico per sopravvivere durante i mesi invernali. Gli animali cosiddetti a sangue caldo appartengono alla categoria di organismi omeotermici, come l'uomo, ovvero biologicamente evoluti per mantenere una temperatura ottimale e stabile all'interno del loro corpo, incondizionatamente dal clima esterno. Se è troppo freddo, il nostro corpo trema. Se è troppo caldo, inizieremo a sudare per abbassare la temperatura. Questo processo si chiama endotermia. Il meccanismo endotermico consente ad alcuni degli organismi omeotermici di mantenere il corpo a temperatura costante. L'opposto dell'omeotermia è la pecilotermia. Appartengono a questa categoria tutti gli animali impropriamente chiamati a sangue freddo, la cui temperatura corporea varia di molto in base alle condizioni ambientali. Non avendo un meccanismo interno di regolazione della temperatura, seguono le fluttuazioni della temperatura esterna e utilizzano l'ambiente per gestirla. Si mettono alla luce del sole per aumentarla o in acqua per abbassarla. Questo tipo di termoregolazione si chiama ectotermia. Questo comportamento è particolarmente sviluppato nei rettili, ma anche negli anfibi, in molti pesci ed in vertebrati, tra i quali anche le formiche. Tutti gli organismi viventi possono far parte di una o più di queste categorie. Ad esempio cani e gatti sono omeotermici ed endotermici, ma possono sfruttare anche l'ectotermia quando si riposano al sole. Le api sono pecilotermiche ed ectotermiche, ma possono utilizzare i muscoli alari per generare calore, il che le rende anche endotermiche. Per quel che ci riguarda, le formiche appartengono alle categorie pecilotermica ed ectotermica. La temperatura gioca un ruolo importante in tutti gli esseri viventi. Alcuni processi biologici, attivazione di enzimi o metabolismo sono ottimizzati per agire a specifiche temperature. Gli organismi endotermici, come detto in precedenza, mantengono la temperatura corporea interna costante e come risultato il nostro metabolismo rimane costante. La nostra digestione e respirazione rimangono costanti. Muscoli, movimenti, attività nervosa, sistema circolatorio rimangono relativamente costanti sia che le temperature esterne siano calde o fredde. Gli ectotermici, come le formiche, hanno una temperatura che combacia con quella ambientale e vincola i loro processi biologici. Quando la temperatura ambientale è alta, anche la temperatura interna delle formiche è alta e questo comporta un'accelerazione di tutti i loro processi. Digeriscono il cibo e lo convertono in energia più velocemente, il che significa che si muovono più velocemente. Sono più affamate, i loro processi nervosi e la riproduzione di cellule sono più rapidi, le regine producono più uova e le larve crescono più velocemente. In poche parole, tutto è più veloce quando le temperature sono calde. Quando la temperatura ambientale si abbassa, i loro corpi diventano freddi e in queste condizioni le formiche semplicemente rallentano. Alimentazione, movimenti, metabolismo, crescita, tutto subisce un forte rallentamento ed è quello che succede quando mettiamo le nostre colonie in ibernazione. Biologicamente parlando, pecilotermia ed ectotermia sono una valida strategia di sopravvivenza durante l'inverno, dato che la richiesta di cibo cala notevolmente. Quando invece un organismo omeotermico come l'uomo, al contrario, necessita di più cibo per mantenere calda la sua temperatura interna. I pecilotermici ed ectotermici a temperature fredde non hanno bisogno di cibo perché tutto è più lento. Durante l'ibernazione invernale le formiche non hanno bisogno di cibo perché sono virtualmente spente ad uno stato di stasi. questo significa che anche la manutenzione da parte dell'allevatore sarà minore. Al di là dell'essere pecilotermiche ed ectotermiche, le formiche cadono anche nella categoria dagli organismi bradi metabolici. Il bradi metabolismo si riferisce ad uno stato letargico così lento da essere quasi prossimo alla morte, questo in risposta a condizioni invernali estreme o in mancanza di cibo. Quando le temperature si abbassano noterai che l'appetito e in generale le attività delle formiche calano notevolmente e tenteranno di chiudere l'ingresso dei loro nidi con detriti. Alcune di esse faranno scorte per sopravvivere durante i mesi in cui non hanno la possibilità di foraggiare. Ok, passiamo alla parte pratica, ovvero a quale temperatura si esegue e come un allevatore induce all'ibernazione le sue colonie. Essenzialmente devi fornire la tua colonia a un posto molto freddo. Non posizionare i formicai all'esterno senza alcuna protezione, perché temperature a diverse gradi sotto lo zero potrebbero uccidere le formiche. In natura hanno la possibilità di scavare più in profondità per raggiungere la temperatura ideale. Se proprio non hai altre possibilità potresti costruire una scatola di polistirolo dove posizionare all'interno il formicaio. Se invece hai la possibilità di usare un frigorifero, tanto meglio, ma assicurati di settare le impostazioni minime e controlla che la temperatura sia giusta. Questo è probabilmente il metodo migliore perché consente di avere una temperatura fissa. L'opzione più plausibile è mettere le tue colonie in una stanza fredda senza riscaldamento, come ad esempio una cantina, un garage o comunque dove le temperature sono abbastanza basse per farle entrare nello stadio di ibernazione. Non preoccuparti di congelare a morte le tue formiche. Nella loro emolinfa è presente della glicerina che agisce come antigelo e ne previene il congelamento a temperature prossime allo zero. Una temperatura dai 5 ai 10 gradi è più che sufficiente per la maggior parte delle specie. Le formiche non richiedono cibo durante la fase di ibernazione ma avranno comunque bisogno di umidità ed acqua. Se la colonia è ancora in provetta non dovrai preoccupartene molto dato che sono già presenti all'interno. Se invece la tua colonia è già in un formicaio dovrai gestire adeguatamente questi fattori. Anche se in inverno sarà più facile da mantenere umido per via delle temperature, non dovrai dimenticarti per nessun motivo di idratare il formicaio con una certa regolarità. Alcune specie di formiche native dalle regioni più calde come ad esempio il sud e le isole d'Italia, con il classico clima mediterraneo, possono fare a meno del processo di ibernazione se vengono tenute al caldo durante il periodo invernale. Di solito queste specie entrano in uno stadio di rallentamento già intorno ai 15-20 gradi. Il loro istinto evolutivo è quello di ibernarsi durante 2-3 mesi freddi, quando in natura la temperatura è bassa e quindi il cibo è scarso. Se hai a che fare con queste specie, allora dovrai fornire del cibo di tanto in tanto, dato che la colonia non è in una fase di ibernazione completa. Fai molta attenzione agli sbalzi di temperatura troppo repentini, perché possono essere pericolosi per la tua colonia. Dovresti garantire un calo graduale arrivando alla temperatura di ibernazione nel giro di qualche giorno. Per esempio, non dovresti spostare la colonia da una temperatura di 28 gradi direttamente in frigorifero a 5. Lo stesso vale anche per il risveglio dall'ibernazione. Se all'interno della colonia ci sono ancora molte pupe in attesa di schiudersi, ti conviene attendere che nascano, almeno la maggior parte. Al contrario delle larve e delle formiche adulte, le pupe non possono entrare in stasi e in questo stadio non supereranno l'inverno. Il mio consiglio personale è quello di eseguire sempre l'ibernazione annuale se la specie lo esegue in natura. Il processo di ibernazione è una fase molto importante nella vita di una colonia di formiche. Concede un riposo prolungato alle operaie, ma principalmente consente alla regina una pausa dalla deposizione di uova e ne prolungherà la vita. Inoltre, dopo una fase di ibernazione corretta, il ritmo di deposizione sarà più veloce e serrato rispetto ad un ciclo senza riposo. Se hai a che fare con una specie esotica, dovrai informarti molto bene sulle sue abitudini. In particolare, le specie che provengono da climi tropicali non fanno l'ibernazione e dovrai assicurarti di mantenere una temperatura calda anche durante l'inverno. A questo proposito, dovrai sicuramente utilizzare tappetini o cavetti riscaldanti. Spero che questo tutorial ti sia tornato utile per comprendere il ruolo che ha l'ibernazione nel ciclo vitale delle formiche e come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like e iscriviti al canale. Se invece hai qualche domanda su questo argomento, ti invito a farmelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!